Un veloce aggiornamento con le breaking news dalla redazione di Teletruria. Parliamo di Covid, purtroppo c'è un colpo di coda nella giornata di oggi dei numeri del Covid che torna a crescere con il numero di casi anche nelle scuole purtroppo. Intanto all'ospedale la situazione non cambia, ci sono anche purtroppo due persone morte, due morti oggi. La notizia buona è che ci sono un centinaio di persone guarite, dichiarate guarite, quindi tornate alla vita normale. C'è un incontro sollecitato dai sindaci valdarnesi con il prefetto tutto questo venerdì prossimo. Venerdì il prefetto appunto convoca questo comitato sulla sicurezza, sulla situazione in Valdarno. I dati economici, più ombre che luci nei dati economici della nostra provincia. Il raffronto tra il 2020 e il 2019 fa registrare una flessione del valore aggiunto di oltre l'8%, male anche purtroppo l'export dell'orificeria, più 10% l'agricoltura. Tutti i dati sono stati elaborati dalla Prometeia su ordine appunto della Camera di Commercio. È tutto per questa edizione, grazie dell'ascolto.